Sindaco Scordella ha sorpreso molto in positivo la bellezza del Manto Erboso dello stadio Ghetto di Febo di Silvi peccato il risultato della partita Sì peccato il risultato, questa è una prima partita dunque conta poco, le partite che contano sono altre naturalmente oggi è una bellissima giornata di sport a Silvi, uno stadio che riparte, riparte alla grande un buon Manto Erboso, siamo felici veramente che il Pesca da Calcio ha disputato il suo primo incontro anche se non ufficiale qui a Silvi Chiedo una cosa, Sindaco in prospettiva futura quale può essere l'utilizzo di questo impianto dal Pescara? Qual è il suo sogno? Ma assolutamente, intanto abbiamo reso agibile un impianto che erano anni che si aspettava oggi abbiamo una capienza di 2400 posti a sedere, veramente un fiore all'occhiello può essere impiegato in tutti i scopi e soprattutto anche le squadre professionistiche e primavera che possono venire qui sul nostro territorio a omaggiarci della loro bravura